Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca che riguarda soprattutto la cronaca sindacale e il mondo del lavoro. Andiamo ad Atessa perché il segretario nazionale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha visitato proprio lo stabilimento Sevel di Atessa. Durante l'incontro è stata fatta l'analisi sulla fase attuale del sindacato, oltre a quella economica e politica del nostro paese. Tutti i dettagli nel servizio di Stefano Recanati. Un solo campanile, l'Abruzzo. Sotto questo slogan si sono riuniti davanti ai cancelli della Sevel di Atessa una cinquantina di lavoratori per partecipare all'assemblea organizzata dalla UIL Abruzzo. Un momento di confronto a cui ha partecipato anche il segretario nazionale dell'Unione italiana Lavoratori, Pierpaolo Bombardieri, in prima linea nelle scorse settimane nella difficile trattativa Palazzo Chigi sul recente accordo sui licenziamenti. La notizia è una grande professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno dentro questo stabilimento. Il successo delle grandi aziende parte sempre dal lavoro, dalle lavoratrici, dall'impegno quotidiano di una terra che ha non grandissime occasioni di sviluppo come questa, che bisogna tutelare. Uno stabilimento che ha grandi numeri di produzione e che noi dobbiamo insieme al governo, insieme alla politica tutelare rispetto ad eventuali tentativi che ovviamente il mondo economico e il mondo imprenditoriale può fare di spostamenti in altri territori. Però è chiaro che bisogna che ci siano le stesse regole dappertutto, altrimenti diventa complicato. Noi dobbiamo ricostruire questo Paese garantendo dignità al lavoro e ovviamente le cose che noi abbiamo visto e abbiamo pagato durante questa crisi hanno bisogno delle risposte diverse da quelle che abbiamo ottenuto finora. Il rispetto della vita, la sicurezza sul lavoro sono temi che durante la pandemia sono stati trattati, ma non sempre con la dovuta attenzione. E poi l'impegno del sindacato è quello di provare a ridisegnare un Paese diverso, nel quale le diseguaglianze sociali, nel quale i lavori, i lavoratori, le lavoratrici abbiano più dignità, nel quale i giovani abbiano una speranza. Ci sono grandi temi di diseguaglianza che purtroppo non sono stati affrontati e le affrontiamo con il lavoro, le affrontiamo con la vita sociale di tutti, le affrontiamo sui territori. Questo territorio ha bisogno di più investimenti, ha bisogno di più attenzione. Non possiamo avere un Paese che gira a 3-4 velocità, è corretto che su ogni pezzo di questa nostra splendida nazione ci sia pali dignità e pali risposta per tutti. Sui licenziamenti io dico che noi abbiamo fatto un accordo importante che richiama tutti alla necessità di non lasciare indietro nessuno. Poi come in ogni caso ci sono i falchi, ci sono quelli che pensano di essere duri. Abbiamo anche qualche professore che ci spiega ogni giorno che cosa si poteva fare. Ai falchi diamo un messaggio, attenzione, non siamo disponibili ad accettare senza restituire il colpo, perché quando si mandano 155 lettere di licenziamento si mettono per strada 155 famiglie. Allora qualcuno ci deve spiegare perché si mettono 155 famiglie per strada mentre ci sono i soldi ancora per qualche mese. Da una situazione particolare, quella della Sevel di Atessa, ad un'altra e parliamo della vertenza Brioni. Si è tenuto questa mattina a Pescara, presso la sede della regione di Via Passo Lanciano, il tavolo di lavoro proprio sulla vertenza Brioni. Attorno al tavolo si sono ritrovati l'assessore regionale al lavoro quaresimale, sindacati, azienda e comune di Penne. Paolo Renzetti. Assessore, si è appena concluso il tavolo sulla vertenza Brioni, quali sono le novità? Sì, abbiamo fatto questo tavolo su mia istanza, appunto per capire i termini dell'accordo con i sindacati. Sì, sicuramente un tavolo costruttivo in cui ci siamo confrontati sulle varie posizioni. Adesso siamo in attesa della convocazione da parte del Mise e logicamente la regione da parte sua deve mettere in campo tutte le azioni di competenza per cercare di attenuare questa situazione di crisi della Brioni che sicuramente pregiudica un po' il territorio del Vestino. L'obiettivo è quello appunto di cercare di mettere in campo una serie di misure di politiche attive per salvare i posti di lavoro e eventualmente di ricollocare gli esuberi tramite le politiche formative. Tra l'altro io anche al Mise, nella riunione di aprile, ho cercato di dire al Ministero appunto di individuare altre zone di area di crisi complessa come la Val Vibrata e in particolare quella di Penne, di tutta la zona del Vestino per cercare appunto anche lì di avere una serie di agevolazioni fiscali per le imprese. Quindi sia per quelle si stende, sia per le imprese che vogliono venire a investire in Abruzzo. Brioni è la storia di Penne. Io ricordo la nascita di Brioni nei primi anni Sessanta, era un bambino, ma ricordo benissimo quegli eventi lontani nel tempo ma che portarono poi ad un benessere della nostra città, non solo della nostra città, ma dell'intera area vestina. Ed essere oggi qui a parlare di una situazione purtroppo ai noi critica, a me mette veramente così molta tristezza nel cuore. Però è molto importante che anche le istituzioni, la Regione e il Comune siano presenti a questi incontri. Chiudiamo adesso la pagina del lavoro, ritrovo in diretta da Chieti Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio. Ovviamente apriamo la pagina del Covid, ma in realtà Paolo in questi giorni probabilmente la locuzione più utilizzata è Variante Delta. Se ne è parlato molto soprattutto in riferimento alla nostra Regione, particolarmente colpita per fare il punto insieme a te all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti il professor Jacopo Vecchiet, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Com'è la situazione? Ovviamente cerchiamo di scoprire se effettivamente la nostra Regione è quella più colpita e quali rischi ci sono. Sì, grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te e ovviamente ai nostri telespettatori qui da Chieti in diretta, come dicevi tu, dalla Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale Santissima Annunziata. Grazie, io ringrazio il professor Vecchiet, grazie professore per aver accolto il nostro invito, perché noi insomma volevamo ascoltare anche dalla sua viva voce di chi lavora sul campo ormai da oltre un anno e mezzo per questa pandemia. Qual è la situazione? Perché negli ultimi giorni si è creato un po' di allarmismo anche per alcune notizie che sono uscite fuori che parlano di questa variante Delta che in Abruzzo avrebbe attecchito più che in altre regioni. Però io le chiedo, professore, di spiegarci innanzitutto che cos'è questa variante Delta. Allora, intanto la variante Delta fa parte dell'evoluzione del virus che per migliorare la sua capacità di adattamento all'ambiente circostanze compie delle modifiche e quindi abbiamo imparato che questa variante ha la caratteristica di diffondersi tra la popolazione con una maggiore capacità rispetto al ceppo precedente. Detto questo, direi che intanto non credo che in Abruzzo ci sia più variante Delta, credo che in Abruzzo venga cercata molto meglio e molto di più che in altre regioni e questa è una nota di merito assoluto che va dato alle nostre strutture assistenziali. In questo momento la pandemia è in una fase, tra virgolette, silente, cioè i numeri effettivamente sono molto bassi. Purtroppo però effettivamente abbiamo visto che tra questi numeri quello che emerge ed è sicuramente il fatto che la Delta stia diventando dominante. Quindi il problema non è tanto nell'immediato, però è chiaro che se nei prossimi mesi dovessimo avere una popolazione che non correttamente vaccinata dovesse confrontarsi di nuovo con il virus potremmo avere sicuramente situazioni un po' complesse. Credo che il 2020 per fortuna non tornerà mai più, però è innegabile che in questo momento bisogna essere molto, molto, molto prudenti e non commettere l'errore di ritenere che la pandemia è ancora risolta perché così non è. C'è da essere, professore, un po' preoccupati per il mese di settembre quando si tornerà dalle vacanze, si tornerà a scuola, si tornerà alla vita normale di tutti i giorni? Questo può essere il dubbio, nel senso che, le ripeto, quanto più il virus riprende la circolazione quanto più, ipoteticamente, a settembre potrebbe circolare nuovamente in ambito scolastico, in ambito lavorativo. In questo momento circola soprattutto tra i giovani, quindi non abbiamo la sensazione che la clinica sia diversa dal virus che già conoscevamo. Però è chiaro che se dovesse colpire le popolazioni di età più avanzata o quelle fragili, si innescano delle variabili che in questo momento non sono così facili da prevedere. Variante Delta, ma ci sono altre varianti di questo virus? E se sì, professore, quanto sono pericolose, se così si può dire? Allora, al momento di varianti ne hanno individuate 11. Sembrerebbe che siano tutte non clinicamente differenti l'una dalle altre. C'è un lavoro recentemente uscito che ipotizza che ce ne sia una di queste che invece è un po' più pericolosa perché cambia talmente le caratteristiche del virus che potrebbe eludere teoricamente la vaccinazione. Ma al di là del numero e al di là delle considerazioni, il concetto è che il virus purtroppo, continuando a circolare, produce queste varianti. Quindi l'unica strada che noi abbiamo per evitare che lui faccia le varianti è inibirlo. E la vaccinazione è la strada migliore per evitare che appunto attraverso la circolazione lui possa produrre ulteriori varianti. Professore, prima di dare la linea allo studio per qualche domanda del collega Jacopo Forcella, tornando all'attualità, la situazione di oggi, lei dirige questa clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti che è un baluardo per quanto riguarda la nostra sanità. Qual è ad oggi la situazione e quanti ricoverati ci sono? Intanto la ringrazio per aver definito la mia struttura un baluardo. Questo è un titolo di merito che va sicuramente al personale infermieristico, ai medici e a tutti quelli che ruotano attorno all'assistenza nel reparto di malattie infettive. Al momento, le ripeto, noi vediamo che i numeri sono nettamente calati e quindi questo ci pone una condizione di serenità. Quindi quello che dobbiamo evitare magari è di fare quello che è stato fatto l'anno scorso, cioè di ritenere che il virus sia completamente scomparso. Scomparso non è e quindi per evitare che possa riprendere vigore dobbiamo continuare a mantenere quegli atteggiamenti che ben conosciamo, soprattutto negli ambienti chiusi, quindi il distanziamento, la mascherina e la sanificazione delle mani, ma soprattutto la vaccinazione, anche perché avendo fatto la seconda dose sembrerebbe che queste varianti comunque non hanno l'impatto clinico che invece abbiamo visto nei soggetti non vaccinati. Jacopo, a te la linea. Sì, buon pomeriggio professore, ovviamente la ringraziamo per la disponibilità. Un paio di curiosità, lei parlava della vaccinazione ciclo completo, per chi, ed è una larga fascia della popolazione in questo momento, si trova tra la prima e la seconda dose di vaccinazione, quali rischi ci sono? Allora, intanto esistono dei dati che dimostrano che già a pochi giorni dalla prima vaccinazione c'è già una risposta immunitaria, quindi l'importante è aver iniziato il ciclo vaccinale. Finché non lo si è concluso, è importante che queste persone abbiano una certa attenzione rispetto ai comportamenti per evitare di entrare a contatto con il virus, perché, le ripeto, pur avendo già una copertura dopo la prima vaccinazione, l'ottimale è l'ottimale e lo si raggiunge dal punto di vista immunologico con la seconda. Altra considerazione, si è detto che la variante Delta è più contagiosa, ma tendenzialmente meno pericolosa. È una leggenda metropolitana? È così? Non è così? Allora, la sensazione è che effettivamente è così, consideri che di dati sull'impatto clinico non ne abbiamo ancora molti, è anche vero però che in questo momento la variante Delta sta circolando nei soggetti molto giovani e quindi storicamente noi sappiamo che nei soggetti giovani l'impatto del virus è molto ridotto. Ecco perché, diciamo, dobbiamo muoverci con molta prudenza, perché il timore è che se questo virus riprende a circolare potrebbe, come dicevamo, magari a settembre, circolando in un'ampia fetta di popolazione, magari anziana, fragile e non vaccinata, dare i quadri clinici che purtroppo abbiamo visto nella prima fase. L'ultima, per quanto mi riguarda, professore, prima lei ha parlato di 11 varianti dalla scoperta del Covid ad oggi. Ecco, dobbiamo rassegnarci al fatto che probabilmente anche in futuro ne troveremo altre, dopo quella inglese, quella indiana, adesso la variante Delta? Guardi, le colonie virali si comportano esattamente come qualsiasi gruppo animale che abbiamo imparato a conoscere con le leggi di Darwin. Questa è l'evoluzione del virus. Il virus ha uno spirito di sopravvivenza come qualsiasi essere vivente e quindi nel passare del tempo le nuove generazioni acquisiscono quelle informazioni che consentono di vivere meglio. Quindi il virus sa benissimo che quando trova l'anticorpo e non riesce a entrare nella cellula dell'uomo, perché lui vive solo all'interno della cellula dell'uomo, ha due strade, o morire o infettare qualcun altro. Quindi le varianti sono una pandemia nella pandemia. Ecco perché dobbiamo vaccinarci. Paolo. Sì, per chiudere un paio di domande brevissime da parte mia, professore, poi la lasciamo. Ovviamente la ringrazio già anticipatamente per il tempo che ci ha dedicato. Si va in vacanza. Che raccomandazioni si sente di dare a chi, soprattutto ai ragazzi che andranno in vacanza? E poi l'altra domanda. Le mascherine. Queste mascherine dovremo continuare a portarle nei luoghi al chiuso, considerando che all'esterno ora non c'è più l'obbligo? Allora, si sa che in ambiente esterno la possibilità di diffondere il virus, che il virus sa di diffondere, è molto molto bassa. Quindi correttissimo l'idea di non usarla all'aperto. Qualche dubbio rimane al chiuso, anzi sarebbe opportuno che negli ambienti chiusi vadano mantenute. E' chiaro che anche rispetto alle precauzioni direi che comunque il distanziamento, la sanificazione delle mani soprattutto è fondamentale. E ovviamente l'ideale sarebbe la vaccinazione. Quindi muoversi avendo fatto il vaccino sarebbe la cosa ideale. Perché vai in vacanza, cosa si sente di dire? Cosa si sente di raccomandare? Ma di valutare le situazioni a rischio, nel senso che noi abbiamo visto cosa è accaduto nelle discoteche in Sardegna l'anno scorso e in genere. Quindi anche i locali dovrebbero avere una frequentazione che sia proporzionata alle dimensioni. Cioè se in un locale veniamo trattati come i polli in un allevamento intensivo, forse è meglio evitarlo in qualche modo. Perfetto, grazie. Grazie ancora al professor Jacopo Vecchiette, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Chieti, da dove vi abbiamo parlato. Grazie ovviamente a Maurizio Degui per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie Jacopo. Grazie al professor Vecchiette, ospedale Santissima Annunziata, l'apsus geografico, ma ovviamente il santo spirito è pescato. Santissima Annunziata a Chieti. Grazie al professor Jacopo Vecchiette. Noi rientriamo e cambiamo argomento. Le opportunità del contratto istituzionale di sviluppo, strumento voluto dal Partito Democratico e avviato quando Giuseppe Provenzano, oggi vice segretario nazionale, era ministro del Sud. Si tratta di 160 milioni per la rinascita economica e sociale dei territori colpiti dal terremoto 2016-2017, in cui sono compresi quelli in provincia dell'Aquila e di Teramo. Il PD abruzzese, proprio con Provenzano, ha tenuto all'Aquila e a Teramo due incontri per spiegare gli obiettivi e sollecitarne i modi di attuazione. Secondo quanto riportato recentemente dal Commissario Legnini, i dati sono confortanti. Ciò significa che stiamo recuperando il ritardo accumulato precedentemente e questo in virtù di norme molto decise che abbiamo approvato e che poi il Commissario ha trasformato in ordinanze. Voglio ricordare la norma capofila delle semplificazioni, che fu la norma inserita nel Decreto Sisma a fine 2019 e con l'autocertificazione, che ha ridotto enormemente il carico sugli uffici. Da lì è iniziato un percorso importante che poi ha prodotto delle ordinanze efficaci. È evidente che la mole di interventi da ricostruire sono tantissimi e che quindi questa accelerazione, ormai misurabile con i dati, ancora non si vede in termini materiali. Accanto alla ricostruzione materiale noi stiamo lavorando anche sulla ricostruzione sociale, economica e il CIS di cui oggi parliamo è uno strumento potente di 160 milioni, ottenuti grazie a un emendamento da me sottoscritto, emendamento del Partito Democratico, sostenuto dall'allora Ministro Provenzano che interviene proprio per la rinascita dei territori. Se a questo aggiungiamo il PNRR che prevede 1 miliardo 780 milioni per i terremoti 2009-2016 che si sovrappongono nell'area Terramana e Aquilana e capiamo bene che non ci mancano i fondi. Adesso ci serve la progettualità e la governance. Il CIS è lo strumento che serve ad andare oltre la ricostruzione. Noi abbiamo bisogno di ricostruire ma abbiamo soprattutto bisogno di far rinascere questi territori creando opportunità di lavoro per le imprese, per i giovani, per le donne che non devono essere costretti a emigrare. Il CIS serve a questo, a realizzare progetti di investimento con i comuni, con le amministrazioni locali che devono essere supportate in questo lavoro. Noi siamo qui a Teramo dove il Sindaco si è dato un grande affare per proporre progetti di sviluppo. Il Partito Democratico vuole accompagnare mobilitare le forze economiche e sociali, le forze produttive, le associazioni, il terzo settore, le reti di cittadinanza perché lo sviluppo deve essere capace di coinvolgere i veri protagonisti, poi gli attori che saranno i beneficiari di questa stagione di investimenti. Sul referendum della giustizia proposto dalla Lega, il senatore del Carroccio Alberto Bagna ai nostri microfoni, sottolinea l'importanza dell'azione referendaria. È un referendum particolarmente importante perché credo che a tutti i cittadini, inclusi anche molti magistrati, non sfugga l'importanza di ridefinire un equilibrio fra i vari poteri costituzionali dello Stato, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario. Lo spirito di questi referendum è questo, promuovere un dibattito costruttivo su un tema che altrimenti si rischia di diventare una palla al piede per lo sviluppo del Paese. Giustizia significa anche tribunali, anche piccoli tribunali e in Abruzzo c'è il rischio fondato che possono essere soppressi quattro tribunali. Ne sono perfettamente consapevole, partecipo con gli altri parlamentari in modo assolutamente trasversale alle iniziative dei sindaci, dei territori, dei quattro tribunali che dovrebbero essere chiusi e mi appresso anche a presentare un emendamento che spero possa essere sottoscritto anche da altri colleghi su questo tema perché ritengo che non sia una misura corretta. In generale voi sapete che la Lega è un partito che vede nell'accentramento e nella centralizzazione una scelta sbagliata, noi siamo per il decentramento, per il federalismo, anche delle strutture, anche di quelle giudiziarie, anche di quelle sanitarie e quindi siamo coerenti con questa linea e proporremo quantomeno inizialmente una proroga. Per chiudere, Senatore, dalla giustizia alla riforma fiscale ci può anticipare qualcosa di quello che farà la Lega nelle prossime settimane? La Lega nelle prossime settimane aspetterà, come tutti, che il Governo emani la legge delega sulla riforma del fisco. Quello che abbiamo fatto finora è stato cercare di portare o di mantenere misure di buonsenso nell'assetto del fisco italiano e mi riferisco in particolare per il mantenere, il mantenimento della flat tax a 65 mila Euro per le partite IVA e per, diciamo così, la parte di tutela è anche stata quella per togliere ogni riferimento a imposte patrimoniali nell'atto di indirizzo che le commissioni hanno votato la scorsa settimana nelle commissioni congiunte. Il Tribunale dell'Aquila ha condannato il sinaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, a un anno e quattro mesi per peculato nell'ambito del processo che lo vede imputato sull'utilizzo a fini personali delle auto blu della provincia dell'Aquila ai tempi in cui era dirigente e direttore generale della provincia. In seguito alla condanna di primo grado, ai sensi della legge Severino, per il primo cittadino scatta la sospensione per 18 mesi. A Di Pangrazio dunque subentra il vice sindaco Domenico Di Berardino. Di Pangrazio era stato eletto per la seconda volta nell'ottobre 2020 battendo con la sua coalizione civica Tiziano Genovesi. Il ricorso in appello potrebbe svolgersi nel giro di 9-12 mesi. Se il sindaco sospeso dovesse essere assolto, tornerebbe in carica. In caso di condanna invece decadrebbe. E a seguito dell'ennesimo incidente stradale costato la vita al giovane pescarese Andrea Costantini, il sindaco di Fossacesia Enrico di Giuseppe Antonio, nei prossimi giorni incontrerà il prefetto di Chieti Armando Furgione per chiedere di intensificare i controlli sulla velocità. Ancora un brutto episodio sulla statale M16, una giovane vita spezzata da un incidente. Lei, il sindaco, ha chiesto al prefetto un incontro per intensificare i controlli proprio sulla statale M16 Adriatica. Sì, intanto una grande tristezza a un ragazzo di 25 anni. Una giornata di festa, una domenica di sole, purtroppo segnata da questo grave lutto. Io sono stato proprio qualche minuto dopo e mi sono reso conto che sulla statale M16 Adriatica c'è necessità di intensificare i controlli anche con la misurazione elettronica della velocità come hanno fatto un po' tutti i comuni costieri. Ho scritto al prefetto, mi sono appellato alla sua grande sensibilità del prefetto di Chieti per verificare con lui come intensificare il controllo. Intanto stiamo definendo l'assunzione di altri agenti di polizia locale che disporrò per la loro presenza sull'Adriatica. Purtroppo siamo la terza vittima dall'anno scorso ad oggi nel territorio che attraversa appunto Fossa Cese la statale M16 Adriatica. Ci sarà la possibilità anche di lavorare, non so, per mettere i dissuasori di velocità delle nuove rotonde? Devo dar atto all'ANAS per la disponibilità, in un paese in cui purtroppo l'amministrazione pubblica fa acqua in molte parti, l'ANAS ha dato disponibilità massima. Adesso per i dissuasori dobbiamo vedere perché è una statale Adriatica e spetta comunque all'ANAS. Le rotonde sono in costruzione, una a San Vito, una a Fossa Cese, proprio nei pressi dove è successo questo ultimo incidente stradale per il traffico che arriva dalla Fondovalle Sangro. La Fondovalle Sangro tra l'altro un anno o due anni aprirà il collegamento est-ovest, quindi ci sarà un afflusso maggiore sulla costa dei Trabocchi e vedremo in questa riunione quali potranno essere gli accorgimenti che serviranno per garantire maggiore tranquillità sulla statale 16 Adriatica. Però rinnovo l'appello a tutti, la velocità deve essere moderata e anche l'uso dell'apparecchio telefonico. Si è aperta sabato sera a Teramo la 29esina edizione di Maggio Festa, la rassegna con i suoi appuntamenti di cinema, danza, teatro e musica. Lo scenario è quello molto particolare della centralissima Piazza Sant'Anna. A Piazza Sant'Anna apriamo Maggio Cinema con omaggi festeggianti e il primo del film proiettato è un film del 1911, il grande colossal italiano Inferno da Dante naturalmente. L'omaggio è al grande Dante Alighieri, è un film straordinario, chiaramente un film muto, la sonorizzazione è di Edison Studio, la pellicola restaurata è stata concessa dalla Cineteca di Bologna, gli autori sono Deliguoro, Badovano e Bertolini, insomma è un vero colossal di altri tempi che apre la nostra Kermess cinematografica e a seguire un altro omaggio festeggiante ed è al grande Rino Manfredi a 100 anni della nascita. Il film è di Brusati, pane e cioccolata, un film tragicomico, drammatico che dà la misura più alta del talento e dell'interpretazione di Rino Manfredi. Queste sono le due proiezioni che faremo all'aperto qui a Sant'Anna, poi si continua il 7 e l'8 alle 21 allo Smeraldo, sempre in questo mese, con un omaggio ad Alida Valli, si aprirà il 7 con Alida, un docufilm bellissimo sulla grande star italiana, non solo, internazionale, a seguire il senso di Visconti e il giorno dopo l'8, un ricordo a 100 anni anche qui dalla nascita della grande Giulietta Masina con una pellicola di Fellini, Giulietta degli Spiriti. E non è un caso che nella giornata dell'8 abbiamo ricordato Giulietta Masina con Giulietta degli Spiriti e il grido di Antonioni per Valli, perché entrambi i film vantano la straordinaria fotografia di Gianni Di Venanzo. E qui naturalmente chiudiamo il nostro omaggio al cinema che mi sembra importante. E poi arrivederci a settembre. Adesso parliamo di sport, è scaduto il termine ieri per le promosse dalla Serie D, come nelle previsioni saranno tutte i nastri di partenza per il prossimo campionato di Lega Pro, tranne il Gozzano che è rinunciato al terzo torneo nazionale. Due slot liberi dunque, visto che la casertana sembra essere destinata ad abbandonare il professionismo. Come nelle previsioni, il lunedì termine ultimo per le vincitrici dei rispettivi gironi di Serie D ha visto tutte le compagini, tranne una a depositare la domanda di iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro. Tutte tranne il Gozzano, ma questa non è una sorpresa, perché la formazione piemontese aveva già dichiarato di voler rinunciare al terzo torneo nazionale. Le altre ci sono, Seregno, Trento, Fiorenzuola, Montevarchi, Campobasso, Monterosi e Taranto, aspettando la CR Messina, che solamente nel weekend ha avuto la matematica certezza di aver vinto il girone I contro i cugini dell'FC Messina, arrivati in seconda posizione. La CR avrà ancora qualche altro giorno di tempo, scadenza il prossimo 13 luglio, ma intanto sono 58 le squadre che saranno regolarmente ai nastri di partenza della prossima Serie C. A meno che non cambi qualcosa nella situazione legata alla casertana, difficile perché i termini sono scaduti, si renderanno perciò necessari due ripescaggi che dovrebbero arrivare una dalle retrocesse e una dai playoff di Serie D. Nel consiglio direttivo di oggi la Lega Pro analizzerà le domande pervenute e la loro conformità per poi dare parere favolevole o meno entro un paio di giorni. Nel consiglio direttivo di oggi la Lega Pro analizzerà le domande pervenute e la loro conformità per poi dare parere favorevole o meno entro un paio di giorni. In caso di stop di qualche domanda, spazio ai ricorsi entro il 13 luglio con pronuncia finale il 15 nel corso del Consiglio federale che metterà la parola a fine ad un'estate per fortuna non così torrida come la pandemia da Covid poteva lasciar supporre. Per quanto riguarda i ripescaggi la graduatoria stilata rebbe l'aglianese al primo posto ma in casa Toscana complice anche e soprattutto il problema stadio il barometro sembra andare verso la rinuncia. Il picerno è out, causa impossibilità di inoltrare domanda, poi c'è da capire cosa accadrà nei playoff del Gironei che ha chiuso per ultimo la stagione regolare e che oggi vederà la prima semifinale. Solo quando gli organici saranno definitivi ci sarà poi la composizione dei Gironi con il Pescara che rischia il raggruppamento meridionale mentre il Teramo sembrerebbe quasi certo della posizione centrale. È chiaro che il forfè della Casertana potrebbe far scartare un posto al sud ma è altrettanto evidente che inserire un'altra candidata alla vittoria come la formazione biancazzurra di Gaetano Auteri in un girone già complesso renderebbe disequilibrati i rapporti tra vari raggruppamenti. Intanto sia a Pescara che a Teramo c'è fermento sui difensori. Auteri potrebbe presto abbracciare Ianes mentre il Diavolo che è un allenatore ancora non ce l'ha potrebbe salutare Piacentini. Affare sull'asse Pisa con il Potenza che poi avrebbe strada libera per l'arrivo del centrale in prestito proprio dai Nerazzurri che l'acquisterebbero a titolo definitivo. Due notizie prima di chiudere. Designati i vincitori dell'edizione numero 17 del premio Rocchi Marciano che ricorda l'indimenticato pugile di origine abruzzese che si svolgerà il prossimo 17 luglio a Ripatiatina presso l'antico convento francescano. Questi premiati premi Rocchi Marciano alla carriera a Patrizio Oliva e ad Alberto Cova. Premio Rocchi Marciano allo sportivo abruzzese dell'anno al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Premio Pugile abruzzese dell'anno a Luca Iovoli, boxing team Simone Di Marco. Premio squadra dell'anno al Monte Silvano Calcio a 5 femminile. Premio speciale alla rivelazione sportiva dell'anno alla squadra Tenaglia Altino Volley. Premio speciale al basket Chieti 1974 e premio speciale sport senza barriere a Ilenia Colanero. Record mondiale apnea dinamica lineare. con pinne. Altra notizia, Moa Concept è il nuovo main sponsor dell'impavida Ortona. Dopo i timori per la mancata iscrizione è stato proprio l'accordo con il brand di sneaker e street apparel costituitosi nel 2015 a consentire all'impavida di approntare quel budget che le permetterà di partecipare al campionato di Serie A2 per il decimo anno consecutivo. Questo era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che tra poco troverete tutti i servizi che avete visto on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata in compagnia dei nostri programmi.